ciao questo è un nuovo video che solito che faccio quando riesco andammi a ricoprire qualche film nuovo che mi sono andato a vedere brutica la regina la regina guerrea che che come film è uscito nel è uscito l'anno scorso il 27 ottobre del 2023 che essendo un film del regno unito sicuramente quando italia è arrivato un attimino qualche mese dopo che che adesso gli ho voluto dedicargli il video e portarlo sul mio canale perché sono riuscito a recuperarlo nel guardare grazie che che adesso non si può trovare sulle solite piattaforme che se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare e guardar solo anche anche gratis come film che come genere e tocca mare generazione guerra che come regia registrati questo film e questo jesse johnson che più che altro essendo mai due come film due anche un'ora e quanta quasi più o meno che più che altro essendo marei un film è un film su come si dice che come genere tocca azione guerra ma è la trama proprio del film e ha ispirato dai da eventi realmente accaduti che legenda regina celtica bautica del primo secolo governa il popolo i geni insieme al re prato prasu targus finché gli invasori romani non uccidono suo marito e si impadroniscono del suo regno portandola da e inizia una delle rivolti più famose della storia che più che altro ma è la trama del film e a questa qualche che dopo che muore per mano dei soldati romani lasciando mare di regno di bautica senza un erede maschio e i romani se questo non le sue terre e le sue proprio le sue proprietà che più che altro morai la trama del film e a questa qua è che è ispirata agli eventi del 60 dopo cristo che questa bar sempre bautica si è quello l'omonimo guerriero celtico che governa il popolo i geni insieme al suo marito prasu targus che quando muore il marito premando dei soldati romani il regno di bautica le mani senza aeree di maschi e romani se questo no come stavo dicendo se questo non le sue terre e le sue proprietà che più che altro ma è la trama del del film e a questa qualche a chi piace piace magari questi film con guerra sicuramente è uno di quei film è uno di quei film è da andarsi a recuperarselo ma ne guardarsi lo che merita ho visto che le scene proprio quella trama come si svolge in mare nel film ecco come sono giate le scene nel proprio nel film ho visto che merita come film anche se non è magari il mio genere però se un film merita come ho visto questo qua sicuramente da come film è uno di quelli magari da consigliare da e andarselo a recuperare anche mai da recuperarselo nel guardare che adesso come stavo dicendo prima sono riuscito a recuperarmelo nel guardarlo grazie che lo hanno messo sulle solite piattaforme che non si può ricoprire gratis come film questo qua essendo riuscito alla fine del 2023 che sicuramente qua in italia è arrivato un attimino dopo che ora che arriva con l'italia passano sempre qualche mese però adesso non si può trovare sulle solite piattaforme come film che vi lascio come al solito tutte le informazioni che riesco a trovare sia come cast degli attori che hanno partecipato assieme ai video trailer e altre informazioni sempre su film sempre tutto ho trovato tutto sotto in tutto sotto in descrizione e niente che quello che potevo dire su questo film e morai l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti sempre sul mio canale con i miei soliti video che che faccio e niente adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao